Allegoria ragazzi, allegoria! Oggi 18 aprile 2023 è la data di consegna lavori di questo ponte sulla Tuscolana. Come vedete l'opera è terminata e probabilmente fra tre giorni, il 21 aprile Natale di Roma assisteremo alla consegna di quest'opera che ha avuto dei ritardi perché come sapete i rettiliani alieni venuti da un altro mondo avevano sequestrato 5 lavoratori. Eccoci qui, fra tre giorni vedremo l'assessore ai lavori pubblici di Roma e l'assessore ai ritardi pubblici di Frascati incontrarsi su questo ponte per l'inaugurazione. Allegoria, allegoria! Esultate!